cari amici se vedete questo video significa che la tecnologia non mi ha consentito di collegarmi da remoto per intervenire in diretta per l'evento per vent'anni assieme vorrei dire al tema dell'accessibilità di porte aperte sul web ricordo le prime giornate le prime volte che ardizone mi aveva contattato per salire ricordo le follie fatte di venire vestito da ghostbuster anche parlare della paura delle competenze digitali delle battaglie fatte assieme per avere i siti accessibili delle discussioni in lista dove il buon vecchio mario varini teneva testa un po a tutti nelle discussioni sul temi legati all'accessibilità diciamo che oggi l'accessibilità è migliorata è migliorata molto grazie al lavoro di normazione tecnica grazie un po anche a me diciamo alle attività che sto portando avanti sia a livello nazionale che internazionale e grazie anche a voi che avete applicato perché avete siete stati l'esempio che ho sempre portato in giro sul fatto che l'accessibilità si può fare basta volerlo fare servono competenze effettivamente servono in alcuni casi anche investimenti economici perché se manca la strumentazione se manca le competenze non si può fare nulla ma oggi grazie anche le normative europee a tutte le attività che si sono fatte dalla web accessibility directive quella dedicata alle pubbliche amministrazioni all'accessibility act che diventerà il cambiamento totale a partire dal 28 giugno del 2025 perché non si potranno immettere nuovi prodotti o servizi non accessibili ripeto un cambiamento epocale vent'anni fa quando ci incontravamo all'inizio sul tema accessibilità eravamo pochi eravamo dei pionieri eravamo persone che ci credevano siamo persone che ancora oggi ci credono perché siamo tutti qui io virtualmente altri amici sono fisicamente lì i nomi sono gli stessi abbiamo alcuni vecchietti come il buon Ardizione che è andato in pensione ma come tanti altri ma che comunque rilangono a cuore di questa comunità perché la forza di questa comunità è la contaminazione parola brutta in ambito virus in ambito pandemico ma parola bellissima in ambito di accessibilità perché solo contaminando altre persone sul tema si può avere un mondo digitale più accessibile anche un mondo reale più accessibile ma noi ci occupiamo digitale in questo caso quindi oggi c'è questo fatto le regole evolvono attualmente abbiamo le vcag 2.1 da probabilmente da fine estate inizio autunno avremo le vcag 2.2 via via avremo aggiornamenti delle norme tecniche in tema di accessibilità di questo tra l'altro ne parlerò fisicamente all'accessibility day sempre a roma dove vi trovate in questo in questo momento e il 18 di maggio e dove tra l'altro alla fine farò anche una cosa carina con gli amici fabrizio caccavello che ben conoscete sauro cesaretti che è l'inventore dell'accessibility day dove faremo una sessione di domande risposte e i più bravi poi otterranno come premio un vero spritz fatto da roberto scano cosa che avrei fatto volentieri a tutti voi la presente ma purtroppo mi trovo da tutt'altra parte d'italia quindi detto questo mi fa piacere ricordatevi sempre che per qualsiasi cosa sono disponibile qualsiasi attività qualsiasi battaglia roberto scano finché avrà un filo di voce e quando non avrà più voce grazie all'accessibilità potrà scriverlo continuare a scrivere e se non avrà possibilità di scrivere avrò altre modalità di interazione perché l'accessibilità è un'arma fortissima che abbiamo per consentire a tutti di vivere il mondo digitale e come dicevo potenzialmente anche il mondo reale quindi auguri auguri a tutti e altri veci vediamo tra altri vent'anni a questo punto